Il Chievo ha la possibilità di chiudere il 2011 in testa alla classifica, per farlo serve però una vittoria contro il Cesena che spesso e volentieri si diverte a sgambettare le grandi. Ora il corner per il Chievo, grande mucchio in area di rigore, la palla è bassa, prova a girarla al volo Franco, va a ciccare il destro, poi c'è il nuovo tiro e blocca molto bene qui Tonti. Chievo pericoloso, quasi subito, occhio adesso a Oliboni, lì forse sarebbe più per un destro ma con il sinistro questo giocatore è capace di indirizzare traiettorie velenosissime. Vediamo se parte lui, la rincorsa è di Oliboni, cerca il sinistro a giro e si deve impegnare Tonti, tiro non potente ma molto ben piazzato qui, Tonti se la cava. Intanto Oliboni, quarto corner per il Chievo, parte tagliato, attenzione bella traiettoria che resta lì e Kuban, il muro di Arrigoni. Le prime squadre per forza non può esserci visto che Rimini è in Lega Pro e il Cesena nella massima serie, pallone per Kirilov che vuole vincere il suo di derby comunque a gancio strepitoso, il destro, Kirilov! Che giocata! Applausi di tutto il pubblico, Radoslav Kirilov, 1-0, un gol meraviglioso al 35esimo di Radoslav Kirilov. Kirilov, pallone dentro per Oliboni, posizione regolare, cross sul secondo palo, ci può arrivare Franchini, la rovesciata di La Selva, palla che resta lì, Maccarone, la gira di destro, pallone alto. Bello adesso il pallonetto di La Selva per Ekuban, attenzione, riesce un controllo difficile, non si accorge però di Tonti che gli frana sui piedi e gliela porta via. Ecco La Selva, c'è Luca Thomas che va in sovrapposizione e poi si ferma, servito invece Kirilov sul fondo, prova la frenata, cerca di tenerla in campo sbagliando, un difensore del Cesena, ancora Kirilov, La Selva, destro, Ekuban, la palla resta lì, Kirilov non può arrivarci. L'incorsa di Oliboni, Kirilov che va alla finta, parte Ekuban, Oliboni, teso dentro, attenzione, la palla è buona, c'è il gol, forse Maccarone, proprio lui, arriva il secondo gol in campionato di Maccarone ma soprattutto il raddoppio del Chievo. Subito pescare il nuovo entrato ma sbaglia, allora occhio al Chievo, Ekuban, Ekuban, viene murato da Tonti in questo caso. Kirilov, Maccarone, i match winner, adesso Kirilov in contropiede, va a recuperare la palla, entra in area di rigore, Kirilov il destro, pallone largo. Cesena che si salva per il rotto della cuffia. Chica, bella la giocata per Campri, lungo linea per Mezzacolli, deve girarsi, ce la fa molto bene anche se Zamparo gli tocca subito palline out. L'ultimo tocco, la carambola, è sfavorevole intanto Mezzacolli che si lascia andare, viene espulso, niente da fare qui, ingenuità, davvero gesto stupido di Mezzacolli. Mezzacolli, Kirilov bella la sponda, Franchini si gira un po' di spazio, il pallone buono per Ekuban, attenzione all'uscita, scriteriata di Tonti, Ekuban, la porta è vuota, Ekuban! Il pallone che si perde fuori. Forse adesso Mattei a dare una mano a Grassi in barriera, invece no, resta solo Grassi. Fischia Chiffi con Domenico Franco che parte con il destro, Hernandez prolunga la palla che resta lì, il miracolo di Tonti. E' in mischia, il Chievo per poco non fa 3-0, Tibor Cica, vediamo se c'è tempo per l'ultimo attacco del Cesena. Prova a disorientare Oliboni, Cica alla fine disorienta se stesso, perde palla. E arriva il triplice fischio di Chiffi, sarà un dolcissimo Natale per il Chievo, un Natale da capolista, il Cesena finisce KO e il sogno continua.